Sfregarsi la lozione sulle belle, l'ha fatto ogni volta che viene ordinato. Sfregarsi la lozione, o altrimenti useremo ancora il tuo. Sì, lo farà Precious, o altrimenti useremo il tuo. Ora, mettere la lozione nel cesto. Mettere la lozione nel cesto. Metti quella fottuta lozione nel cesto! Grazie a tutti.